Dopo l'amichevole giocata ieri da Juventus contro il Novara, dopo aver vinto 5-0, si ritorna a punta capo per quanto riguarda il discorso della punta. Anche Pirlo ha espresso l'estremo desiderio di avere un numero 9 il prima possibile. Però oggi sono uscite nuove indiscrizioni riguardo Suárez perché tra l'Uruguagio e il Barcellona sembra guerra aperta. D'un lato il Barcellona che dopo aver assunto Koeman ha annunciato che il pistolero è fuori ogni progetto tattico e tecnico, dall'altra parte vi è appunto il giocatore Uruguagio che pretende l'ultimo anno di contratto perché appunto il suo contratto va a scadere nel giugno 2021. Dall'altra parte vi è la Juventus che come una faina è pronta ad agguantare la preda ma comunque ci sono delle difficoltà tecniche burocratiche che vanno espletate. Prima cosa è l'esame che il pistolero dovrebbe a breve affrontare per poter superare appunto prendere l'attestato B1 di lingua italiana per poi avviare le pratiche per ricevere il passaporto italiano ergo comunitario e poi poter approdare, firmare con la società bianconera dopo che appunto gli slot sono completati degli acquisti di Arthur e McKennie. Però appunto il pistolero ha puntato i piedi, ha puntato i piedi perché dice io voglio il mio ultimo anno di contratto. Dall'altra parte vi è il Barcellona che dice no assolutamente io non ti devo nulla. Situazioni un po' simili a quella di Chiedira e di Vidal, solo che il cileno sembra aver rinunciato, quindi accettando la linea blaugrana, di rescindere il contratto senza nulla a pretendere diciamo così per poi firmare con l'Inter. Chiedira la Juventus invece è fondamentalmente la stessa cosa, dice anzi Chiedira proprio non vuole, non vuole accettare alcun tipo di risoluzione e quindi si dice io rimango qui. Situazioni ripeto analoghe ma non proprio uguali, ma soprattutto per un discorso di apporto tecnico del giocatore alla squadra. Chiediamo. Chiedira, Chiedira non vuole lasciare a Juventus rifiuto ogni tipo di destinazione e ogni proposta di risoluzione contrattuale. Ma diciamo che anche Chiedira ha saltato fino adesso il 50% più o meno delle partite disputate. Quindi voglio dire l'importanza di Chiedira per la Juventus negli ultimi anni è stata zero, apporto zero. Su Arez invece dice voi mi avete messo alla porta ma io comunque vi ho dato. Quindi non c'è un discorso di nulla a pretendere a livello tecnico. Io vi ho dato, voi mi avete messo alla porta e ragazzi mi sganciate il grano, mi pagate e io me ne vado. Quindi ora c'è appunto questo impasse tra le ferme posizioni delle parti. Adesso appunto verificando la situazione che o una o l'altra deve cedere. Perché poi la Juventus non si può permettere di ritrovarsi a poche settimane, anzi a pochi giorni dall'inizio del campionato senza avere un numero 9. Ce l'hanno giocato Cristiano Ronaldo e Kulusevski. Chiediamoci. Quindi voglio dire non puoi affrontare un inizio campionato così quando Bernalowski è infortunato, è nascosto a Bo, Di Bala idem è infortunato. È un rischio e Pirlo ha diritto ad avere un numero 9. Ora, o sia Milico, o sia Geco, o sia Cavani, o sia Giroud. Così si parla, o sia Giroud, Suarez, chi che sia, Ken. Ma un numero 9 la Juve deve averlo. E si sta verificando appunto questa situazione di impasse, che è inammissibile. Io penso che la Juve da un certo punto di vista debba farsi valere. Debba dire, senti, Luisito, allora, anzi Luis, perché Luisito era l'ex Inter, Luis, siamo la Juve, non siamo una squadra di Liga Adelante. Quindi, o ti sbrighi, o meglio, se passi l'esame, o ti sbrighi e veramente scendi a patti, si trova una soluzione, oppure, ciao, noi Juventus viviamo su altro. Ma tutto dopo l'esame italiano. Lo passi, ok, va benissimo, si può fare. Però, ripeto, da lì Suarez deve prendere una posizione. Non esiste che poi dica, ok, mo vedo, mo parlo, mo, no, non punto i piedi. Perché poi, ripeto, chi ci rimette è la Juventus, anche, indirettamente. Con, diciamo, l'aggravante che la Juventus può cercare situazioni differenti, può trovare opzioni differenti da Suarez. E quindi, ripeto, il rischio è grosso. Il rischio è grosso, si parla anche di Morata, ma ragazzi, come si dice a Milano, Non ci sono i soldi, l'ha detto Agnelli, 71.4 milioni di euro di passivo di bilancio. No, Morata, via, ciao, abbandoniamo via Morata. E di tutti gli attaccanti di cui si è parlato che magari possono costare soldi. Il mercato quest'anno è alternativo per la Juventus, perché purtroppo è una delle società che, avendo uno stadio di proprietà, in non aver pubblico l'ha patito particolarmente. I mancati introiti li ha patiti particolarmente. Quindi, c'è poco da dire. C'è poco da dire. Le soluzioni sono poche. E tutto dipende da Suarez e non soltanto dall'esame in italiano. Perché anche quello dovesse passarlo. E lo specchietto per la Lodole che dice, ok, passi l'esame, firma con la Juve. No, perché la risoluzione col Barcellona ancora non è firmata. Se Luis punta i piedi, il Barcellona punta i piedi, si va a creare un muro contro muro e non si va a risolvere. E il Barcellona ha minacciato anche di tenere un anno in panchina. Anzi, scusate, un anno in tribuna. E non è che il Barcellona sia una società poveretta che dice, vabbè, deve cederlo per forza. Non gliene frega niente. Se quelli puntano i piedi, lo prendono, lo mettono in tribuna al Camp Nou e non scende. Quindi voglio dire, attenzione, attenzione a questa vicenda perché è molto, molto, molto intricata. Ma la costante è una. La Juve deve trovare un numero nove. Anzi, due. Il secondo può essere anche un ken della situazione, ma il primo deve essere un titolare. Ma forse, ad esempio, l'Atalanta ha preso l'Ammers, il classe 97 del PSV Eindhoven. Ma fosse quello. Ma fosse anche uno così. Almeno rischi. Anche perché la Juve ha ceduto Olivieri, in presto all'Empoli. Quindi neanche a dire, punto su Olivieri, non Olivieri, su Olivieri. Non puoi neanche farlo. Perché è andato via. Cosa puntano? Su Marques? Su Brighenti? Cioè, cosa vogliamo fare? E questa è la situazione, purtroppo. E ripeto, Pirlo ha diritto ad avere un numero nove. Ad ora, quale sarà? Boh, non si sa. O c'è qualcosa al quale stanno lavorando sotto, sotto traccia, stile McKennie. Ma, ad ora, la Juventus non ha un numero nove e deve affrontare un, dovrebbe, potrebbe affrontare l'inizio campionato con Kulusevski e Cristiano Ronaldo. Ditemi voi, se è una coppia di attaccanti valida. Poi tutto può essere nel calcio, ovvero tutto è il controllo di tutto. Ma ditemi voi, se una società che ambisce a vincere il decimo scudetto della Champions League, può permettersi di affrontare un inizio campionato, ripeto, con Kulusevski e Cristiano Ronaldo. Vabbè, speriamo comunque da tifoso Juventino in qualche novità, a breve, sia su Suarez che non su Suarez. Non me ne frega nulla. Un attaccante deve averlo e da tifoso Juventino lo, che virgolette, pretendo e lo voglio. Quindi, detto ciò, ho già parlato anche abbastanza. Quindi, vi invito a vedere i prossimi video sul canale e vi mando un abbraccione. Ciao ne!